Tutto bianco, nel senso che lo zero assoluto, un semestre presentato prima dell'avvio da un Presidente del Consiglio che ha dato al Paese grandissime aspettative rispetto al rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea. Se cerchiamo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio prima di presiedere il semestre europeo, non possiamo dire che lui non abbia creato tante aspettative. Risultati pari allo zero, assolutamente, io non ho idea di oggi cosa possa dire se non salutare il Presidente della Repubblica che si dimette, se non dire che l'Italia è in residuo fiscale attivo rispetto all'Unione Europea, eccetera, 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 un po' le solite cose, ma dal punto di vista dei risultati ci possiamo tranquillamente dire che questo semestre europeo per l'Italia è praticamente non è servito a niente. Sì, Sabelli Fiorelli...